Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale, grazie per le tante visualizzazioni sul primo video sui cucciolotti 2021 Partiamo con uno spacchettamento di 10 pacchetti 10 pacchetti, 60 centesimi in uno Vi ringraziamo se vi iscrivete al canale e mettete un like, ci fa sempre molto molto piacere Partiamo col farvi rivedere velocemente Questa è la scatolina per le cards fantasy E abbiamo trovato, facciamo vedere queste Questa è la più bella La fatina Questa è carina Una divinità acquatica Un segno zodiacale Un drago Un dinosauro E questo è un fauno e un altro drago Scusate Abbiamo sbagliato Questo è un dinosauro Non so se è un dinosauro Che piange Un tirax che piange Perché non si è fatto male E dietro c'è Non vede il lato positivo delle cose E si lamenta continuamente per ogni cosa Creatura Metà uomo e metà capra Era il protettore dei greggi dei pastori Guarda Teti che eravamo in dubbio Teti quella lì Era la più bella delle Nereidei Nereidi Le ninfe dei mari figlie di Nereo E Doride Discendenti da oceano Potevano trasformarsi Assumere qualsiasi aspetto E ciò contribuiva Ad aumentare il suo mistero Vediamo questa qua La fatina della terra Vive tra le rocce In caverne O nelle profondità Del terreno E difficilmente Difficilmente Si sposta Spesso si trasforma In un In lucertola Per prendere il sole Senza farsi riconoscere Wow Ecco perché c'è una lucertola Vicino Allora L'album quest'anno Questo è per le doppie Per le doppie Che noi non abbiamo Non è morbido Ma è rigido È rigido Alla costa rigida A me piace un sacco Perché Sembra un libro Non so perché mi piacciono Abbiamo cominciato A incollare Attaccare Più che incollare Una volta si incollavano Che più che altro Lui le attacca Ma è perché mi piace Perché mi piace Perché Cioè Era storta Una figurina L'ha staccata E l'ha rimessa E certo Vanno attaccate bene Quindi le avevo attaccate Solo alcune Quindi siamo qui Ora Per aprire i prossimi pacchetti Vediamo E gli occhiali Vediamo queste nuove Figurine Otto bustine Dieci bustine Sì No Otto bustine Per riempire una ciotola Qui abbiamo Un piccolo Giaguaro Un pezzo di fumetto Una lince Un cavallo Un occhio e un coniglio Una monkey Have a great day Animali preistorici Noi cuccioli spacchiamo Mammut Cavallo Ed è Nooo Music Queste sono delle toppe Che Adesivi in realtà Allora Il cavallo Che avete visto prima Rosso Toro Il pinguino Sono dei figu memory Sì Poi quando sarà più avanti l'album Ve lo faremo Drago generoso Che carino Ci capiamo con uno sguardo Che carini Della serie mitologica Il puzzle Il lupo mannaro Qui abbiamo Rinoceronte nero Il cagnone Trovato Una carce bella Un gatto Questo è un gatto Ripuliamo velocemente il mare Dugongo Dugongo Bello il dugongo Dugongo Veniva spesso È bellissimo Mi stavo sbagliando Questa è una chimera Che è un misto tra capra Leone E serpente Bello Wow Quando si mangia Quando si mangia È metallizzata rosa Già Adesso andiamo a mangiare In cucina Non mi batte nessuno Squalo E questo è spettacolare Bellissimo Squalo bianco Cartolette fantasy La giro io La fatina 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 del fuoco Vai leggi dietro Vive vicino alle fonti di calore È chiamata anche Fatta splendente Perché si presenta Come Si Si presenta come Scintilla O piccola palla di fuoco Può assumere Le dimensioni che vuole Fantastico Io ho trovato Un draghetto coraggioso Che carino Questo è delle magiche creature Frankenstein Poi ho trovato Metallizzato Un velociraptor Bello il velociraptor No Si è il velociraptor Non sembrava Poi abbiamo Sagittario Sagittario Le figurine Che fanno Veramente del bene Caribou Bastano otto bustine Ah ok Per infilare una Tasso Naso di porco Noi ne abbiamo aperte già Naso di porco Sette Più dieci Diciassette Sono già due ciotole Troppo vicino Non stare troppo vicino Qui c'è un altro squalo Squalo macchio Tartaruga Liuto Vai Butta giù I fell I fell I fell On top of the world Allora Qui abbiamo Un draghetto disordinatore Vi mette in disordine la stanza Ma in realtà siete voi Non è vero Viva tutti i cucciolotti del mondo Se scegli la violenza Hai poca speranza Non svegliate la tigre Ho trovato Grifone Scoiattolo Per pulire il mare E un'altra anche io Per pulire il mare Questo qua Gli occhi Doppia Doppia Però questa la terrò Me la attacco su un diario Ma già finiti i pacchetti? No Li ho aperti già tutti Ah brava vai Questa qui La rana Qua ne vedo una metallizzata Oh Veramente sono tutti qui Ce n'è una che piace a papino Cervo Dalle corna nera Ti guarda per ultima Va bene C'è una metallizzata Che ti piacerà molto Panda minore Panda minore Panda rosso La natura è uno spettacolo Testone Testone Animali preistorici Wow Il megalodonte Fantastico Noi abbiamo un dente di megalodonte Capricorno Capricorno ci mancava Ma sono Io vorrei trovare il cancro Allora Shinopiteco Che carino Questo c'è nella vecchia cosa Te l'avevo attaccata per la festa del papà Sono piccoli stickers Siamo a fare gli sticker di Barbie Qui abbiamo una vespa orientale Speriamo non punga Insieme vinciamo E ti voglio bene Quindi già vi dico che Attaccheremo queste In modo da vedere un po' l'album meglio E poi Nel prossimo video Dovrebbero portarci 15 pacchetti E quindi ne apriremo poi 15 Quindi Rimanete collegati Venite a trovarci spesso Mettete un like Condividete E iscrivetevi E come sempre Vi salutiamo Ci vediamo al prossimo video Ciao